Arrestati i brigatisti in Francia dopo 30 anni, come commenta questa notizia? Una buona notizia, soprattutto per i parenti, per i familiari, per i colleghi delle vittime, adesso aspettiamo le estradizioni in Italia. Ci impegniamo dopo anni per riportare a casa Battisti, è una buona notizia, la collaborazione fra Italia e Francia, che avevamo cominciato noi, penso che sull'asse Draghi-Macron possa dare buoni frutti.